Attacco? Si si attacca a vedere. Vuoi un lancio? Si grazie. Controlla prima tutto. C'è tutto, vediamo il butterfly. Vai pure. Senza motore? Grazie. Comunque un gran bel volo anche questo. Bello, bello, bello. Cioè... Poca velocità. Ecco. Mi conviene andare, che bella terra. Faccio il giro là sotto. Fa il giro solito, giro là sotto, verso il montricolo. E vieni su, detto qua, nel corridoio che hai davanti. Se vedi che sei lungo, leggera via la finestra e vai fuori. Faccio il giro qua. Va bene, perfetto. Vieni su, dritto, poi in su. Dritto, noi. Gira a destra, terra. Capra. Perfetto. Megliati così. Perfetto. 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 Perfetto.